Il sindaco di Marianopoli, Carmelo Montagna, cosa augura per questo Natale ma anche per il nuovo anno che ha le porte? Dovendo augurare, ho un elenco molto lungo di cose da augurare compatibilmente con la tristezza dei tempi che viviamo. Sicuramente tanta serenità, il maggiore possibile di felicità compatibilmente con la tristezza dei tempi. Quindi sicuramente tanta pace, tanta serenità nelle famiglie e soprattutto il lavoro, lo sviluppo e la qualità della vita. Il 2012 che abbiamo vissuto ci lascia con tante questioni aperte che riguardano la nostra terra, che riguardano la Sicilia ma che riguardano un'intera Europa che non è più in una fase di crescita economica come leggiamo quotidianamente ma che è in una fase di recessione. Alla vigilia di questo nostro Natale cosa augurarci? Augurarci soprattutto un Natale nei cuori e anche guardare al nuovo anno che arriva, al 2013, con speranza perché il quotidiano si presenti sotto vesti diverse e sia un anno più rigoglioso per tutti quanti noi, soprattutto dentro i nostri cuori e dentro le nostre case. Grazie. Grazie.